Città metropolitana, oggi era previsto un incontro tra i sindaci metropolitana, sarà spostato lunedì perché non poteva... Si riesce a risolvere la questione, sembrava che Lanci non volesse dare i soldi alle città che ne hanno effettivamente bisogno. Allora, la prima tranche è stata data interamente a Milano, adesso Lanci ha a disposizione altri 28 milioni, è chiaro che stiamo discutendo, so anch'io che Milano non può avere tutto, stiamo cercando di capire quanto potremo avere, io spero che lunedì sarà una giornata decisiva per mettere i nostri conti in ordine, ma noi però andiamo da centiloni anche per dirgli che ho finito il 2017 e il 2018. Io poi penso che, è una mia visione, che il nostro Paese si andrà avanti, potrà continuare a immaginare di gestirsi al meglio con 8 mila comuni, 93 province, 14 città metropolitane, 20 regioni, ma non sarà possibile. Andremo sempre avanti con meno risorse per tutti e l'incapacità di riorganizzarsi per invece chi c'è è sul territorio e ha le risorse per farlo. Grazie. 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 Grazie.